Siamo arrivati alle dodicesime giornate a scuola e psichiatriche che quest'anno si svolgeranno dall'11 al 13 maggio. Il titolo del convegno è l'intersoggettività dell'essere, l'essere è l'intersoggettività, dibattito moderno fra neuroscienza, etnopsichiatria, psicoanalisi e psicofarmacologia. Il lavoro del congresso viene svolto come sempre dalla squadra, una squadra di 8 persone che lavora alla meraviglia. Una peculiarità, una caratteristica di queste giornate a scuola è la scelta voluta di un tema specifico dove le varie correnti, i vari autori si confrontano fra loro e al nostro modo di vedere, al nostro modo di vedere significa della squadra il mio, questo è molto importante perché solo attraverso il confronto si riesce ad andare avanti. Il tema scelto quest'anno è l'intersoggettività perché lavorando in un Dipartimento di Salute Mentale nel pubblico, facendo il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale nel pubblico, io penso che l'intersoggettività sia molto importante sia dal punto di vista clinico, ma mi permetto presuntosamente di dire che è molto importante sul territorio l'intersoggettività con gli enti vicinori, intendo il Comune, intendo il CERT, intendo il importante, un'intersoggettività con gli inti vicini, ma è molto importante. Il CERT è quello che si intendo il CERT, attraverso la nostra scelta, perché è un'interesse di i nostri, di QTSS, perché la nostra stessa è un'interesse di Alla prossima è un'interesse di CERT, che è un'interesse di CERT, e che è un'interesse di Grazie a tutti.